Osto 2021 continua, siamo in compagnia di Elena Demo, la Product Manager Settore Caffè della Goyo S.P.A., una delle principali aziende al mondo per la produzione di packaging specializzato in caffè e direi affini, visto che la grandissima novità che stai per presentarci è particolarmente adatta ai torrefattori. Di cosa si tratta Elena? Sì, quello che presentiamo oggi in fiera è una capsula innovativa perché siamo andati ad integrare quello che è il concetto di confezionamento di caffè fresco direttamente nella confezione al porzionato, al caffè porzionato. Ecco, partiamo da ciò che hai tra le mani o ciò che è alle nostre spalle? Partiamo da quello che è alle nostre spalle che è la vera novità. Noi presentiamo una capsula compatibile in questo caso con il sistema Nespresso che presenta al suo interno una valvola perfettamente integrata all'interno proprio della capsula stessa. Questa capsula permette al torrefattore di confezionare il caffè macinato fresco immediatamente dopo la torrefazione saltando tutta quella che è la fase di degasazione. Questo significa sicuramente un vantaggio in termini economici, quindi un risparmio economico e soprattutto di tempo durante il processo produttivo del cliente. Sì, perché in genere il caffè per degasare impiega 48, 72 ore nei silos e poi può essere macinato, incapsulato, imbustato e così via. Beh, una gran bella novità, un'esclusiva mondiale targata Goglio. Assolutamente sì e accanto a questi grandi vantaggi abbiamo sicuramente anche quello di permettere ai nostri clienti di trasferire tutta quella che è la qualità e le aromi dati dal caffè all'interno della capsula. Quindi senza disperderli in ambiente. Ma non finisce qui perché prima mi spiegavi che la bussa che Urat hai tra le mani e che stai per mostrare è proprio quella della grande novità che presentate insieme alla capsula. Sì, perché insieme alla capsula con la valvola integrata presentiamo oggi quella che è la nostra gamma di materiali pronti per il riciclo per il confezionamento del caffè. Quindi sono materiali poliolefinici, la gamma è fatta da materiali poliolefinici oppure monomateriali, quindi a base di polipropilene o politene. In questo caso abbiamo un sacchetto che è monopolitene e chiaramente le sue caratteristiche sono quelle richieste da tutti i torrefattori. Quindi altissima barriera ossigeno-umidità e una perfetta macchinabilità sulle linee di confezionamento per garantire l'output produttivo che ci si aspetta. Continuate con l'innovazione, continuate con la vostra famosissima, il vostro famosissimo brevetto con la valvola che consente l'uscita dei gas ma non l'ingresso dell'ossigeno. Chiaramente è un po' la tecnologia che abbiamo condiviso tra il confezionamento del caffè tradizionale e quello in capsula. Bene, allora Elena, per chiunque desideri maggiori informazioni, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere? Posso lasciare il mio indirizzo di posta elettronica che è elena.demo.chiocciolagoglio.it Molto bene, e allora noi nel frattempo ti salutiamo, ti ringraziamo, speriamo che in tanti riescano a potervi contattare per riuscire a scoprire dal vivo i costi e la metodologia per produrre questa tecnologia ma soprattutto le capsule che sono alle nostre spalle. Grazie Elena. Grazie a voi, grazie. Grazie a voi, grazie. Grazie a voi.